Wabalaba dab 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 e bentornati su No Mamamazzo, bentornati anche nella playlist dedicata a Dylan Dog e in particolar modo in questo caso dedicata al Color Fest. Oggi parliamo del Color Fest di questo tirrimestre che si chiama Mr. Punch. Vi ricordo che se aprite qua la descrizione, oltre a potervi iscrivere al canale, mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano il teatro delle marionette, e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questa storia, trovate anche, oltre a tutti i link cliccabili agli altri miei social che sono questi qua fondamentalmente, trovate anche la descrizione, la spiegazione di come Mr. Punch sia legato a doppio filo al nostranissimo Pulcinella. Se non bastasse, ce lo spiegano anche qua nella serie regolare, i padroni del nulla, in cui a pagina 23 Dylan spiega a una ragazza inglese che Pulcinella è la versione italiana di Mr. Punch. Fondamentalmente è un po' più approfondito di così, in realtà Pulcinella è quello che è nato prima, è la maschera italiana che è nata prima, è poi passata dalla Francia, è poi arrivata in Inghilterra ed ha assunto il nome di Mr. Punch. Oltre ad assumere il nome di Mr. Punch e a cambiare i suoi colori dalla casacca bianca a una casacca rosso sgargiante, colore del sangue, ha assunto anche un'accezione negativa passando oltre la manica. Ah sì, perché se Pulcinella comunque è una maschera tutto sommato positiva, lo vediamo anche in questo numero, è un povero diavolo che ride con autoironia delle disgrazie della vita e se ne fa corazza, se ne fa forza, qua invece Mr. Punch altro non è che una figura molto cattiva, legata quasi addirittura al diavolo, che ride delle disgrazie altrui, che se ne fa beffa, che maltratta al prossimo, lo prende abbastonato e come lo sappiamo tutti i teatri di Burattini rappresentano marionette che si danno delle botte da orbi. Qua però viene proprio visto come un'accezione negativa in cui Mr. Punch se la prende con tutti, come un burattino che è anche il burattinaio di tutte le altre marionette. A livello grafico, allora, innanzitutto, Mr. Punch è stato scritto, soggetto sceneggiatura di Giovanni De Feo, e i disegni, la colorazione e la copertina sono di Giulio Rincione, che ha fatto un lavoro straordinario con queste tavole, che si ispirano liberamente a un altro fumetto che parla di Mr. Punch, dal titolo La tragica commedia o la comica tragedia di Mr. Punch, che vi metto qua sotto in descrizione se volete acquistarlo. Utilizza proprio lo stesso stile di disegno di questo fumetto e mi ha ricordato anche molto, soprattutto nella scena dove Dylan e la protagonista femminile di questo numero fanno all'amore, mi ha ricordato molto anche, ecco, è anche molto carino che non si vede una volta tanto, non si vede nulla di esplicito. Ricorda un po' la parte del film di Harry Potter, I Doni della Morte, in cui parlano della storia di Breda e il Bardo e dei tre fratelli. Ricorda molto questo stile di disegno, mi è piaciuto davvero tanto. Poi ci torniamo un attimino sui disegni, faremo anche il solito video sulla Instagram TV in cui ne parlo in modo specifico. Per quanto riguarda la storia, devo dire che ancora una volta a me il Colorfest ha soddisfatto anche più della serie regolare. La serie regolare, appunto, ve l'ho detto, la storia mi era piaciuta, una storia molto volutamente confusa in cui non capiamo fino a metà se Dylan è immerso nel sogno, se è immerso in un incubo o se appunto sta affrontando la realtà. Qui invece, nonostante la storia sia comunque surreale, riesce a essere allo stesso tempo molto lineare. A me la linearità piace. Capisco che ormai nella serie regolare forse la linearità abbia un po' stufato, a me non ha stufato, ma può essere che per uscire un pochino dal seminato si scrivano delle storie così molto, molto volutamente molto strane che ci portano, che ci disorientano apposta. Qui invece, senza per forza disorientarci a livello narrativo, riusciamo comunque a immergerci in questo mondo di fantasia, in questo mondo dove Mr. Punch, appunto, oltre a essere un burattino, pare essere un burattinaio che comanda noi, che siamo le sue marionette, le sue marionette tirate da... che crediamo di essere liberi, ma in realtà non siamo affatto liberi, siamo tirate in giro dai fili del destino. Mr. Punch conosce tutte le nostre debolezze, tutto il nostro odio verso qualcuno e se ne approfitta per prenderci nel suo teatro di marionette. La storia è davvero molto carina. Vi ricordo che il Color Fest, non in particolare tratta del D-Land post-meteora o pre-meteora, in questo caso è chiaro che il D-Land dog si è ispirato al D-Land post-meteora, perché vediamo Block, che è chiaramente il padre di D-Land. Allo stesso tempo, però, è un D-Land molto legato a Groucho, che in realtà Groucho e D-Land sono insieme solo da una manciata di numeri, solo dal 406 hanno fatto coppia fissa e non si è ancora sviluppato questo rapporto di amicizia tra D-Land e Groucho come quello pre-meteora, anche perché questo Groucho non ha aiutato D-Land a uscire dall'alcolismo, come invece ha fatto il Groucho pre-meteora. La cosa carina, appunto, vediamo anche a livello grafico, che nel momento in cui D-Land esprime il desiderio appunto che Groucho non fosse mai entrato nella vita di D-Land, ciò nonostante D-Land, vabbè, non è ancora un alcolista, però vediamo un po' i tratti che usano per disegnare D-Land quando è in preda all'alcol, quando ricomincia a bere, ovvero la barba che inizia a mostrarsi. Infatti pensavo che toccassero anche questo argomento, invece vabbè, non lo hanno toccato, quest'altra cosa può dimostrare appunto che è un D-Land post-meteora, perché appunto è uscito da solo nel 404 dalla sua malattia dell'alcolismo, e quindi non grazie a Groucho, quindi anche se Groucho non è mai entrato nella sua vita, D-Land è comunque riuscito a uscire dall'alcol, però appunto c'è questa amicizia, questo rapporto di amicizia, che per carità D-Land probabilmente nemmeno lui sapeva di avere, qui magari lo scopre, scopre che tiene a Groucho più di quanto pensasse, e fa di tutto per salvarlo. Ovviamente le tavole, i disegni sono uno spettacolo, lo sapete che io adoro il colore, quindi vengo tranquillamente rapito da questi disegni, ci sono delle splash page a tutta pagina, dove non c'è neanche il bordo, sono davvero spettacolari, mi piace anche la caratterizzazione dei nostri protagonisti quando diventano delle marionette. Se notate, Groucho, come entra nel teatrino delle marionette, è dipinto come un clown con il naso rosso, a ogni apparizione successiva riprende via via sempre di più le sue fattezze umane, quindi gli resta il naso rosso ma non è più dipinto di bianco, non ha più i capelli da clown ma torna ad avere i suoi capelli, mano a mano che parla con D-Land diventa a tutti gli effetti un uomo, anche nella statura, nelle fattezze, e abbraccia un D-Land marionetta che è visivamente più piccolo di lui. Questo percorso di Groucho che pare sentirsi più umano nel teatro dove tutti lo acclamano che non nella vita reale è stato davvero bello da vedere visivamente a livello di disegni, anche se poi scopriamo che in realtà è tutto un tentativo di Groucho di salvare D-Land, quindi in realtà non si trova davvero molto bene da Mr. Punch, ma per un attimo ci avevo anche creduto che forse Groucho si trovasse bene dove il pubblico ride finalmente dalle sue battute e lo acclama. Pagina 48, una fantastica citazione al Cavaliere Oscuro del 2008 di Christopher Nolan in cui appunto il Joker dice a Batman pessima scelta di parole quando si tratta di tenere appunto in ostaggio una ragazza sull'orlo di un palazzo, lasciala andare di Batman o di D-Land Dog in questo caso, il Joker o in questo caso la ragazza posseduta da Mr. Punch risponde pessima scelta di parole. Quindi citazione al Cavaliere Oscuro appunto del 2008, anche se in questo caso non è Mr. Punch a lasciare andare la bambina, ma in qualche modo la madre cerca di proteggere la bambina e di non farla morire. Tra l'altro Mr. Punch sulla faccia della ragazza è visivamente molto simile al Joker, che era il Joker fumettistico, quindi tante 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 citazioni, tante tante omaggi a livello grafico a fumetti o altri media della cultura pop. La storia di per sé mi è davvero piaciuta, di come l'unico modo per uscire dalla morsa di Mr. Punch sia sovvertire l'ordine naturale delle cose, quindi fare in modo che una persona come Mr. Punch, che ride sempre delle disgrazie altrui, si commuova. Quindi non rida ma pianga. È stata davvero una cosa che mi è piaciuta, anche perché, devo dire, a un certo punto, verso la fine del numero, mi sono proprio chiesto, ma come fanno a uscire da questo pantano narrativo? Perché sembra davvero impossibile. Devo dire che in qualche modo, se la sono cavata, ce l'hanno fatta con questo escamotage, che non mi ha convinto al 100%, ma mi è piaciuto, devo dire. Ragazzi, io non so, non vedo l'ora che nella serie regolare ci sia qualcosa di così altrettanto valido, perché per quanto alcuni numeri di Landog della serie regolare mi piacciono, non li sto demolendo, come vedete nei miei altri video, il Colorfest vince sempre. A che vogliamo fare? Si pensa che da agosto, nella serie regolare, ci sia un altro, meglio, un vero, il vero e proprio stravolgimento che doveva esserci con il 401. Quindi dal 401 con la miniserie 666 che si è conclusa con il 406 per poi portarci al miniciclo di Manacerace, a questi numeri singoli, poi ci dovrebbe essere un altro miniciclo di cinque numeri con la Trekowski e poi ad agosto ci dovrebbe essere la vera e propria rivoluzione di Landog. Ora io non so se finalmente gli autori del Colorfest, perché ricordiamo il Colorfest è comunque un terreno di prova dove nuovi autori vengono, diciamo, provati, testati sull'indagatore dell'incubo, chissà che finalmente non entri qualcuno di questi nuovi autori del Colorfest nella serie regolare, che invece ha tutt'altri autori storici fissi, diciamo, che si intercambiano tra loro ma che comunque sono sempre quelli e che sono per contratto legati a D-Landog, mentre appunto nel Colorfest si dà spazio agli artisti emergenti e la differenza si sente. Che c'è qualcosa di nuovo da poter raccontare con D-Landog finalmente si sente nel Colorfest e non si sente più nella serie regolare. Ma anche, lo sappiamo, con la distinta concorrenza di cui io faccio sempre la recensione, si sa, si vede che con un autore nuovo le cose fruiscono di più. Non lo so. Io spero che davvero ci sia una rivoluzione in cui la serie regolare non mi faccia rimpiangere il Colorfest, perché l'ho già detto in un altro numero, se continua così la serie regolare, io dopo il ciclo di Madame Tchaikovsky potrei abbandonare la testata regolare e dedicarmi al Colorfest. Quindi, fatemi pensare voi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Colorfest, se anche voi lo preferite alla serie regolare, se lo preferite all'Old Boy, tra l'altro l'Old Boy dovrebbe uscire anche questo a giorni e sarà a tema San Valentino, quindi questo mese hanno fatto proprio un trittico di stagionalità, quindi due dedicate in un certo senso a Puccinella, quindi al Carnevale, è un numero dedicato a San Valentino, dove ho già visto che la trama pare essere interessante, non so se sarà altrettanto interessante come l'hanno sviluppata, lo scopriremo insieme, nel senso che lo leggerò poi ne parleremo insieme nel video, voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo numero e ci vediamo sulla mia Instagram TV per parlare insieme anche del solo del disegno, perché merita tantissimo a questo giro. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video di Laniato.